E' di grande conforto la lettura del Corriere di oggi, di domenica poi, non so quando vi ascolterete, perché dopo avere, come faccio puntualmente, indicato le bugie di Marco Travaglio e il suo compiacimento, quel ghigno, gli dice vedi, vedi il generale in divisa figliuolo non è riuscito a rispettare i 500 mila vaccinati al giorno, poteva essere che in un certo momento non fossero arrivati i vaccini, leggete oggi sul Corriere, record di 570 mila dosi in un giorno, anche tra i 9 milioni di 1 e i 60, questo è un problema che qua sotto viene affrontato, i soldati nei paesini per convincere chi manca l'appello, qualcuno o ha paura o ha sentito parlare delle controindicazioni di alcuni vaccini, però lì in generale la pianificazione è stata condotta con metodo, con metodo militare, senza alcuna violenza ovviamente, per quella difesa che l'esercito rappresenta. L'ho detto, mi piace vedere, sbugiardato ancora una volta, come ogni volta che dice qualcosa, tale Travaglio. Ma ancora di più, vedere che un altro che io ho preso di mira, il virologo Galli, avesse che sia terriologo, sempre in televisione, aveva detto, riaprire il 26, una catastrofe, aumenteranno i contagi, oggi è costretto ad ammettere, parlai di rischi a riaprire e invece l'Italia migliora molto. Quindi onore al merito di chi è capace di riconoscere il suo errore, ma io l'ho sempre detto, se non si poteva sentire in televisione un becca morto, dire continuamente tra l'altro che fa una pessima dieta, per quanto è che la sottello pensi bene a ritrovare un po' la forma, dire no, chissà cosa capiterà, bisogna portare le mascherine anche quando vai in bagno da solo. Ora, le mascherine dall'aperto sono un'altra buffala. Bisogna respirare l'aria aperta, soprattutto quando sei tanto distanti da chiunque, da camminare in un parco, in un bosco, sull'argile di un fiume, in tutta tranquillità. E quindi, quando qui io leggo, il mio è un compiessuto stupore, dice Massimo Galli, direttore della malattia infettiva dell'ospedale Sacco di Milano, perché in Italia i nuveli dell'epidemia sono in netto miglioramento al di là delle più rosee aspettative, non le sue, che aspettava catastrofe. Con l'inapertura c'era un 10% della malattia che le cose seguissero questa via, 10% lo dice lui, chiunque avesse meditato una sola cosa, senza vaccini, senza vaccini, senza vaccini, con la forza di rendere quindi non contagiosi le persone, come va detto, non deve pensare che uno si vaccina e porta ancora la mascherina, cioè tutte follie. Allora, con una situazione molto più grave, l'anno scorso, il 3 giugno, quando è finito il famoso lockdown, il Covid se n'era andato, come probabilmente accade a questo virus, a quello che si è capito sul piano empirico, quando arriva il caldo, e senza vaccini sono calati i decessi, sono finiti i morti, sono calati, ridotti a nulla i contagi e tutte le terapie intensive. Quindi bastava pensare all'anno scorso senza pensare 26 aprile, 2 giugno, 3 giugno, 21 giugno, per semplicemente valutare che calando il virus, la sua forza, la sua energia, andiamo verso giorni in cui sarà assolutamente tranquillo mangiare all'aperto, mangiare in un ristorante in un numero di persone che non siano evidentemente, ma anche dove c'è un sovraffollamento, anche nella famosa, sarà stata una tragedia per il povero Galli, festa per l'Inter vincitrice dello Scudetto, non è capitato niente. Quindi lui è costretto, lei però non era d'accordo con le riaperture di fine aprile, parlò di rischio calcolato male, invece aveva ragione Draghi, era un rischio calcolato giusto, sulla base dell'esperienza dell'anno precedente. È vero, ma io sono un medico, mi baso sui dati, non sono più, no, sui dati suoi, perché i dati miei, il dato dell'anno scorso, bastava a studiarlo. La ripresa d'inverno non era legata all'apertura dell'estate, l'estate tutti stavamo tranquilli e non è capitato nulla, quando si è ritrovati in una stagione più difficile, a tardo autunno, sono ripresi i contagi. I numeri non erano per niente rassicuranti, i contagi e leccessi erano ancora elevati, non era inverosimile pensare che ci sarebbe venuta essere un'ulteriore crescita dei contagi, purtroppo non c'era e non c'è stata. E quindi lui attribuisce molto la campagna vaccinale e quando uno gli dice lei è stato sempre considerato un catastrofista, certo, un iettatore, uno che portava soltanto notizie negative, creando sconforto e paura delle persone più debili, direi che per motivi molto politici e poco nobili questa etichetta è stata appiccicata addosso a me e altri colleghi dai giornali di destra. Ma quale destra? Eri oggettivamente così, questo era il tuo tono costante, catastrofista, con l'aria tragica, sbagliando, sbagliando e portando quindi un procurato allarme a persone semplici che hanno preso paura e hanno vissuto in quella condizione che anche adesso è rovesciata. All'aperto i contagi sono molto meno forti, sono inesistenti rispetto al chiuso. Avete costretto anche lei, le persone, a stare al chiuso. Ma tra l'essere ottimisti per piacere, in assenza di dati, no, i dati c'erano, i dati dell'anno scorso. L'ottimismo è legato al fatto che il virus è andato lentamente calando, indipendentemente dalla forza straordinaria dei vaccini che hanno contribuito a ridurlo a uno stato ormai di pressoché inesistenza. In certa fase i dati non spingevano all'ottimismo e c'era una necessità di mantenere ben chiaro che non si poteva abbassare la guardia, soprattutto pensando ai dati dell'anno scorso che invece erano esattamente in questa direzione. Quindi, grazie al Corriere, ancora una volta vediamo due profeti di sventura, Travaglio smentito, Galli smentito e possiamo andare tranquilli, l'idea, verso una stagione in cui riprenderemo vivere normalmente e mi raccomando, non usate le mascherine soltanto per fare finta. Se avete la preoccupazione che qualcuno sia contagiato, se siete all'aperto da soli, se siete in macchina da soli, mettetevela nel culo, perché è ridicolo, è grottesco che ancora ci sia qualche cretino che inizia di portarla dove non serve. All'aria aperta nulla è più straordinario di respirare ciò che il Signore ha creato. L'aria aperta, l'aria aperta pieni polmoni, non la propria aria dentro la mascherina. Mi raccomando, non fatemi prendere in giro. Avete capito come questa gente racconta dalle e va dimostrato punto per punto quello che hanno fatto, indicando soltanto paura e dando informazioni sbagliate.